Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 16 maggio. La perturbazione giunta mercoledì interesserà soprattutto il nord Italia. Temperature in rialzo al centro-sud per venti di scirocco dal nord Africa. In particolare al mattino avremo qualche rovescio al nord, tranne la Romagna. Al pomeriggio rovescio e temporale su tutto il nord Italia e Toscana. Nella sera rovescio e temporale sulle Alpi centro-orientali. Massime 18 gradi al nord, massime rialzo al centro-sud su valore tra 24 e 27 gradi.